Grazie 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 Grazie. 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 Final rollerball, the stable doubles. Table number 37. Alfredo Di Luca, Luigi Capone against Luigi Giannone, Francesco Bonanno. Table number 37. Rollerball, the stable doubles, final. Ii si state! groove 37,3. With one pin, one pin, two, three, four, five. For the next one we have seven pins, Grazie. 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 21 Grazie. 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 Oh, stat. Tablet 53 e 56 Lorenz, Brun against Dijon, Ibarra Tablet 53 e 56 . 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 Grazie. 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 Men's Classic Double, semifinal, table number five, Tony Spiderman, Tom Refredo against Blake Robertson and Ryan Moore. Spiderman, Refredo against Roberson, Moore, table number five, Classic Men Double, semifinal. e la finalità del classico, disabilità di doppia, numero 37 Alfredo Di Luca, Luigi Capone, Michael Smulders, Michael Van Gaute il numero 37, classic disabilità di doppia, il numero 37